Sono il dottor Bartolo Allegrini, sono un medico sistemico, sono nella commissione scientifica e sono anche docente della scuola di alta formazione. Perché farla? Perché oggi abbiamo la necessità di implementare le nostre conoscenze, di aumentare la consapevolezza che ci vuole l'aiuto di tutti e ci dobbiamo mettere insieme, collaborare, come diceva il grande professor Stagnaro, collaborare per poter trovare delle nuove soluzioni che possano permettere a tutti quanti noi, a tutti i nostri pazienti, a tutti quelli che oggi soffrono, a tutti quelli che oggi sono andati incontro a nuove malattie che purtroppo l'industrializzazione, tutti i danneggiamenti epigenetici che abbiamo creato in questo modello sociale ci stanno presentando. E quindi questa scuola offre quest'anno uno spunto soprattutto sulla parte clinica, nello studio di varie tematiche inerenti proprio alle patologie che contornano ormai tutti noi. E quindi il mio invito ad iscriversi è perché ognuno di noi ha il dovere di continuare ad apprendere per creare un mondo migliore e questa scuola è una grossa opportunità.